Cari ascoltatori, è un privilegio per me salutarvi tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo. Sappiamo di essere collegati nell'amore di Dio con molte migliaia di persone in Europa orientale e occidentale e in altre parti del mondo. Le numerose lettere testimoniano la benedizione della predicazione biblica. La nostra trasmissione ha il titolo Il messaggio del tempo della fine. Si tratta di portare il messaggio del tempo della fine ai credenti. In questa generazione si stanno adempiendo molte profezie. Siamo vicini al ritorno di Gesù Cristo. Ognuno ha il diritto di essere informato sul piano di salvezza di Dio in questo tempo. Ogni volta che Dio intendeva fare qualcosa di straordinario sulla terra, lo faceva annunciare da uno dei Suoi servitori. Prima che il diluvio arrivasse sulla terra come giudizio di Dio, il Signore Dio mandò il suo profeta Noè con un messaggio. Il Signore ha paragonato quel tempo con il nostro. Allora Egli disse Lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento Egli non è che carne. Ma i figli di Dio non prestarono attenzione alla parola e non si lasciarono riprendere dallo Spirito di Dio. Si mescolarono con le figlie degli uomini e attirarono così l'ira di Dio su tutta l'umanità. La linea benedetta di Sette si mescolò alla linea di Caino e Dio decise la fine di ogni carne. Anche in questo tempo ci sono solo due linee, i credenti e i non credenti, i figli di Dio e i figli di questo mondo. Oggi viviamo nel più grande miscuglio di tutti i tempi e Dio parla di nuovo Lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. Ovunque le persone si adoperano per unirsi, nel campo religioso, politico o economico, soltanto i veri credenti prendono sul serio l'esortazione nella seconda epistola a Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? La fine di ogni carne è decisa davanti a Dio, ma prima che la distruzione arrivi sulla terra avrà il luogo e il rapimento dei veri credenti. Di nome sta scritto che Egli trovo grazia davanti al Signore. Trovare grazia davanti a Dio significa riconoscere la volontà del Signore, credere la Sua parola e lasciarsi riprendere dallo Spirito di Dio. Due libri della Bibbia hanno evidenziato in modo speciale la parte profetica del piano di salvezza. Nell'Antico Testamento è il libro del profeta Daniele. Nel Nuovo Testamento è l'Apocalisse di Gesù Cristo. In entrambi gli eventi sono rappresentati in simboli e immagini che possono essere compresi solo attraverso la rivelazione divina. I profeti vedevano nelle visioni il piano di Dio e potevano descriverlo al popolo di Dio. In Daniele capitolo 8 versetto 15 leggiamo «Mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di comprenderla ecco in piedi davanti a me una figura simile a un uomo». Era l'angelo Gabriele che era stato mandato a Dio al profeta con l'incarico «Gabriele, spiegagli la visione». Se oggi qualcuno testimoniasse di una simile esperienza non dovrebbe preoccuparsi delle beffe che verrebbero su di lui. Anche coloro che si definiscono credenti hanno difficoltà a credere nell'opera soprannaturale di Dio. Il profeta Daniele testimonia dell'angelo Gabriele dicendo «Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra ma egli mi disse «Stai bene attento o figlio dell'uomo perché questa visione riguarda il tempo della fine». Il Signore stesso dà ai Suoi servi la giusta comprensione per spiegare gli eventi biblici. Loro ricevono il significato della parola profetica attraverso le visioni con l'invio di un angelo o con la rivelazione diretta dello Spirito Santo. con veridicità portano il messaggio divino al popolo di Dio. Non tutti sono autorizzati a predicare la parola di Dio ma nel corso del tempo ne hanno fatto una professione che viene scelta come qualsiasi altra professione senza avere ricevuto una chiamata divina. I profeti e gli apostoli non hanno mai parlato di sé quando si trattava del piano di salvezza di Dio. furono tutti chiamati e incaricati da Dio. In questo contesto penso alla chiamata del nostro caro fratello Brana che è stato utilizzato da Dio in modo straordinario. Spesso ha riferito come l'angelo del Signore venne a lui e gli diede le istruzioni divine. Forse molti diranno adesso credo solo a ciò che sta scritto nella Bibbia. Cari amici chi crede in ciò che Dio ha fatto in passato crederà anche quello che lo stesso Dio fa in questo tempo. il fratello Brana descrisse così l'aspetto dell'angelo che venne a lui il 7 maggio 1946. La sua altezza circa un metro e ottanta il suo peso circa 90 chili con i capelli scuri e senza barba. Il fratello Brana fece come il profeta Daniele ma l'angelo gli disse non temere sono stato mandato dalla presenza dell'onnipotente Dio per dirti che la tua vita insolita e le tue incomprensioni hanno indicato il fatto che Dio ti ha inviato con un dono divino di guarigione alla gente del mondo. Se sarai sincero e riuscirai a far credere alle persone nulla resisterà alla tua preghiera nemmeno il cancro io stesso ho avuto il privilegio di ascoltare quest'uomo di Dio in Europa e negli Stati Uniti la sua predicazione della parola con autorità mi ha colpito profondamente dall'età di 18 anni leggevo già la Bibbia ma poi l'ho letta di nuovo accuratamente in preghiera sono grato a Dio per aver inviato il suo servitore profeta in questa generazione con il così dice il Signore della parola rivelata molti non si preoccupano di fare delle ricerche approfondite basate sulle Sacre Scritture in merito a ciò che Dio ha fatto in questo tempo ascoltano invece gli scribbi che attribuiscono al diavolo l'opera di Gesù in questo tempo ma un vero servitore di Dio non dipende dal giudizio degli uomini sta davanti all'iddio onnipotente e svolge coscienziosamente la sua missione sapevo della chiamata alla predicazione fin dei primi giorni della mia giovinezza e avevo già predicato per molti anni quando venne il giorno della conferma della chiamata divina era il 2 aprile 1962 all'alba e il Signore ad alta voce mi disse le seguenti parole mio servitore il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato io ti manderò in altre città per predicare la mia parola non riesco nemmeno a descrivere ciò che provai allora stavo guardando fuori dalla finestra quando la voce del Signore risuonò dal lato destro della finestra non avevo la minima idea di cosa stesse per accadere l'autorità della voce del Signore era così forte che pensavo che il mondo si sarebbe fermato sul posto e sarebbe iniziato un altro giorno sapevo che qualunque cosa potesse dire questa voce è assoluto e sicuro maggiori dettagli sulla mia testimonianza e sul mio viaggio dal fratello Brana si possono leggere nell'opuscolo credi solo il così dice il Signore il fratello Brana mi disse tramite rivelazione divina esattamente le stesse parole dandomi conferma dell'incarico divino per me e per tutti i veri credenti di questo tempo è chiaro che Gesù Cristo è lo stesso che gli parla e opera e incarica i suoi servitori di rivelare la sua parola al suo popolo come il Signore fece comprendere la visione al profeta Daniele inviando l'angelo Gabriele così Dio ha mandato il suo angelo in questo tempo al suo servitore se esaminassimo tutto ciò che il Signore ha fatto attraverso il ministero del fratello Brana allora potremmo scrivere un nuovo libro degli atti degli apostoli cari amici vi ho testimoniato degli eventi che sono veri anche davanti al trono di Dio il Signore Dio non è cambiato egli adempia e conferma le promesse della sua parola lo Spirito di Dio non contenderà per sempre con l'uomo il tempo della grazia sta per finire e il ritorno di Gesù Cristo è vicino siamo tutti pronti ad incontrarlo preghiamo oh Signore nostro Dio ti ringraziamo per la tua parola rivelata in questo tempo fa che il messaggio del tempo della fine penetri in tutti i cuori benedici il tuo popolo su tutta la terra te lo chiedo nel nome di Gesù Amen O sage ist die Wunderbar das Wort so blus und wunderbar Xem attendoo che il su Christi lo che il stessa asma è l'uomo e la perla e la perla che il mo' è l'uomo che il la perla qui è l'uomo la perla è l'uomo di far Grazie a tutti. Grazie a tutti.